Damiano, come vi state preparando per la sfida di domenica contro Taranto? Abbiamo analizzato quello che non è andato nell'ultima partita contro Padova e stiamo cercando di migliorare quel che si può, l'intesa e alcune situazioni su cui dobbiamo ancora lavorare. Si torna in campo dopo Padova, come vi sentite? Sicuramente c'è tanta voglia di rifarci della brutta prestazione e non vediamo l'ora che sia domenica per affrontare questa gara contro Taranto.